Un anno di reclusione e dieci mesi di lavori socialmente utili. E' quanto dovranno scontare rispettivamente i conducenti del camion e dell'auto rimasti coinvolti nel terribile incidente che provocò la morte di Linda Cecconi e che adesso ha visto il patteggiamento di due persone. La sentenza è stata emessa dal giudice del Tribunale di Arezzo, Claudio Lara, sul banco degli imputati accusati di omicidio stradale, un 59enne di Spoleto e un 42enne di Subbiano, il primo alla guida del mezzo pesante che con un carico ben oltre il dovuto avrebbe urtato l'automobilista rientrando da un sorpasso all'altezza dell'uscita di Marcena. Il secondo invece si sarebbe trovato troppo al centro della carreggiata in seguito all'impatto avrebbe perso il controllo del veicolo contribuendo a provocare il fatale incidente. Era il 26 ottobre del 2022 quando Linda Cecconi, 41enne dipendente del comune di Arezzo perse la vita lungo la strada regionale 71 mentre stava andando al lavoro. Morì sul posto, troppo gravi le ferite riportate.